Presidente Pagano, il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok per l'election day in Abruzzo, cioè europee più regionali. Sì, devo dire che c'è grande soddisfazione da parte mia e da parte di coloro i quali avevano affermato che si dovesse andare a votare a maggio insieme al Parlamento europeo. La decisione di ieri di un governo di larga intese, Pdl, Pd, Udc, Scelta Civica, affinché in Abruzzo si vada a votare insieme alle elezioni europee è la dimostrazione di quanto affermavamo sulla riduzione della spesa pubblica era giusto. Bisogna evitare di andare a votare più volte nel corso dello stesso anno, spendendo in questo modo tanti soldi pubblici, tanti soldi dei contribuenti e noi dobbiamo a tutti i costi evitare lo spreco di danaro pubblico. Se oggi c'è anche la notizia che il governo la pensa esattamente come noi, io credo che a questo punto il Presidente Chiodi possa incontrare il Presidente della Corte d'Appello e decidere con decreto la data del 25 maggio.